L'apertura di Cerci, gran pallone, D'Ambrosio, posizione regolare, la stelzata, D'Ambrosio, D'Ambrosio, il tiro, rete, Torino in vantaggio, D'Ambrosio, Montari, poi Matri, bella l'apertura, posizione regolare, Balotelli, pallone in verticale di Immobile, attenzione a Cerci che vola verso la portaversaria, Cerci davanti a Biati, Cerci, palla su Siso, Cerci, rete, Cerci, gran gol, raddoppio del Torino. L'1-2 a sponda, attenzione, Balotelli, Padelli, ancora Balotelli, la pallova fuori, e il pallone su Montari, pallo sul sinistro, c'è un rimpallo, Padelli, in anticipo, porta vuota, Montari, non trova il pallone, ancora Montari, Montari in rete, il Mille in qualche modo con un gol, Rocambolesco, riapre la partita, 42esimo, controllo di Poli che poi scivola, recupera il pallone, Poli a terra, calcio di rigore, calcio di rigore. Parte Balotelli, rete, 21 su 21, non sbaglia mai. 2-2, clamoroso pari del Milan.